oh stavamo parlando di te prima così stiamo facendo un po gli affari nostri non ce ne siamo accorti che in piazzetta qui a colpetto di ronato dj carlone non ha ancora mica notato questo sposo ma ciao che poi sei notabilissimo cioè si vede chi sei ci vede chi sono un lavapiatti ma non proprio dai soffesa per i lavapiatti ovviamente è un lavoro umile certo certo un lavoro umilissimo ma chi sei sono un futuro sposo dove sei entrata ma dalla porta porta dalla porca dalla porta dalla porta confermo la porta mi faccia poi to porta mi scivolata la che ha fatto guarda la telecamera ma chi sei sono francesco si sposi con chi è con alice con la dove arrivi io arrivo da trento dalla porta da trento no sono passato solo dalla porta è passato sotto perché non ti abbiamo visto insomma se fossi stata una bella ragazza l'avremmo notato vero ragazzi è certo ovviamente un bel 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 trento 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 però non mi avete portato nulla non mi avete portato lo struder perché di solito quando arriva trento ma riportano è vero o non è vero lo strudel non l'abbiamo portato però me lo secco l'abbiamo portato cosa avete portato le patate le mele le patate le fighe le mele le pere le righe le righe ha detto le righe ho sentito io le righe anche la patata comunque sbracchiata esatto proprio pronta all'uso l'hai visto il film l'ho visto assai assai i trento sono sempre caldi ma credo il clima vero allora anche fritta la patata fritta non l'ho mai mangi bollita si qualche volta a volte a volte è impanata tu le impani no anche l'essa anche l'essa l'essa è la migliore ma si si è un bicchiere d'acqua ma un bicchiere d'acqua finisce 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 primo poi arriva col secondo allora fammi un bel saluto allora un saluto a voi chi siete voi noi siamo allora io sono dj carlone e dietro la telecamera c'è mister dave ce lo saluti che non saluta bene mister dave un saluto ok poi saluta anche a casa a casa ovviamente alla mamma e il papà no tifoso del tempo ma no del milan direi bravo bravo si vede se non ha un bel periodo niente non fa niente nel bene e nel male bisogno di quelle spalle allora fammi un bel saluto c'era il tipo che stava riprendendo le tue spalle è il mio migliore amico ovviamente essere anche tutti i simoni anche quasi no grazie grazie ragazzi sui bicchieri trento trento anche questa sera è qui e si farà sentire assolutamente l'urlo dj carlone